Siamo arrivati alla conclusione di questo congresso nazionale SINFRE del 2023 qui a Bologna. Io e la professoressa Berti siamo molto felici per tutto quello che è accaduto. Abbiamo ricevuto veramente tantissimi complimenti da parte di tutti i partecipanti, compreso anche gli sponsor, perché sono stati molto frequentati. Siamo onorati di far parte di questa comunità scientifica e ancora di più siamo onorati di aver contribuito alla realizzazione di questo congresso che credo che rimarrà un po' nella storia della SINFRE. È stata un'esperienza faticosa ma piacevolissima e proseguiamo così.